Sì, prima di tutto devo ringraziare tutti i miei compagni di squadra che veramente sono stati straordinari, perché abbiamo fatto gli ultimi due mesi, siamo andati troppo da corsa, neanche lo Spezia ha fatto tutti questi punti, adesso godiamoci questa salvezza e poi penseremo al futuro. In questa salvezza ci sono dei tuoi importantissimi gol, il tuo rapporto con l'Andria come prosegue? Sì, diciamo che da quando il Presidente mi ha detto prenditi la pace di capitano e mettiti alle spalle i ragazzi, ho dato il massimo di me stesso, sono fiero, contento di aver dato veramente il meglio di me stesso, adesso ripeto, gol decisivi li ho fatti per la salvezza, peccato oggi però non importava quello di oggi, era più quello decisivo del Siracusa più che altro, siamo tutti contenti e godiamoci questa salvezza veramente meritata.